Chiude la Porta Santa, si riaprirà il prossimo anno a celebrare di nuovo il giubileo più antico della storia. Tantissimi fedeli, pellegrini da tutto il mondo, l'hanno attraversata. La Santa Messa, poi la chiusura della Porta Santa, il sindaco Biondi che dichiara chiusa questa 724esima edizione. Dichiaro chiusa la 724esima edizione della perdonanza celestiniana. E' un corteo molto più snello, solo figuranti aquilani di rientro, sempre molto suggestivo comunque che dalla Basilica esce per ripercorrere le vie del centro e riportarsi a Palazzo Fibioni, residenza municipale, per darsi appuntamento al prossimo anno.